Alcuni volenterosi soci delle associazioni Alto Garda Kite e l'associazione Windsurf Riva hanno costruito oggi a Riva del Garda le loro sedi nel prato vicino al porto San Nicolò. Si tratta di un'area messa a disposizione dalla Lido S.P.A. dove i due sudalizi troveranno spazio per le loro attività sportive. Sentiamo le interviste ai presidenti delle due associazioni. In questo spazio messo a disposizione dal comune di Rivas, come vediamo sono in costruzione le casette dell'associazione Windsurf Riva e dell'associazione Alto Garda Kite. Come sono state acquistate queste casette? C'è stato qualche finanziamento, qualche contributo? Sì, devo dire che sono stati agevolati dall'amministrazione comunale di Riva, che ringraziamo perché finalmente siamo riusciti a fare la nostra sede, sia come Windsurf che come Kite. La Lido di Riva del Garda, che è la concessionaria del prato, ci ha permesso, ci ha dato l'autorizzazione per fare questo e il comune ci ha dato il contributo per costruire queste casette. Noi ci mettiamo del nostro e siamo contenti, siamo arrivati a avere anche noi la nostra sede, un punto di riferimento che eravamo prima proprio allo sbando, non avevamo nessun punto dove trovarci. È importante anche questo, è un altro passo avanti per noi, specialmente col kitesurf, perché abbiamo, come si sa, le nostre problematiche anche a livello di navigazione. L'associazione Alto Garda Kite quanti soci coinvolge? Attualmente quest'anno abbiamo fatto 90 tesserati, devo dire che partendo dal 2012 che abbiamo cominciato, che eravamo in 20, siamo contenti perché comunque 90 praticanti, 90 tesserati, soci praticanti, non ce l'aspettavamo nemmeno noi, prendendo in considerazione anche le problematiche di navigazione che abbiamo. Non è poco, credo. A proposito di questo, sappiamo che nell'estate appena trascorsa ci sono state diverse polemiche riguardo alla navigazione del kite per quanto riguarda il lago di Garda. Come ci sono novità riguardo a questo fatto? Noi continuiamo a insistere, però credo che anche dall'altra parte si sta vedendo con un occhio diverso la situazione e mi sembra che ci sia delle novità, credo che il prossimo anno ci siano delle novità perché sento un po' che si sta interessando anche qualcun altro, insomma. e non vedo più andare contro un muro di gomma come era nel passato, diciamo. Mi sembra che si sta muovendo qualcosa. Speriamo che lo capiscano anche le nostre amministrazioni così perché lo stiamo facendo anche per integrare lo sport, specialmente a livello giovanile, che vogliamo avere qua i nostri figli, i nostri ragazzi che fanno questo sport con noi perché lo facciamo insieme. Una delle due casette qua in costruzione alle nostre spalle è adibita alla vostra associazione che è l'associazione Windsurf Riva. Come è nata e di cosa si tratta? Allora nel 2011 ci siamo trovati con due amici e volevamo creare un punto di riferimento per il Windsurf e poi per il Sup e per la gente locale in quanto secondo noi Riva del Garda mancava un riferimento. Adesso insieme a un'altra associazione stiamo creando grazie al Comune di Riva un punto di riferimento diciamo le nostre sedi. Poi qua vicino abbiamo il nostro area di messaggio per il Windsurf e il Sup. Abbiamo un sito con delle webcam collegate online in diretta per vedere le condizioni del lago e in Porfina abbiamo stimato grazie all'amministrazione lo scivolo per uscita per il Windsurf e il Sup. Quindi vorremmo che questo rappresenta un punto di riferimento per questa attività Riva del Garda a livello amatoriale. Attualmente quanti soci conta questa associazione? Circa 140. Non solo locali, ci sono gente anche che abita qua o viene da fuori e diciamo che ogni weekend quando sono qua cerchiamo di trovarci assieme e sviluppare l'attività. Grazie a tutti.